Trionfa la solidarietà, grande protagonista a piano di Sorrento con il Gusto E, che ha unito alla bisecolare manifestazione popolare di Collin Festa la collaudata insieme per il territorio, formula street food della rassegna itinerante salute, alimentazione e bellezza, tutto quello che molti non sanno. Incontri, tavole rotonde, dibattiti e consulting gratuiti su Eno Food, benessere, cultura, moda, spettacolo, editoria, arte, bellezza, formazione e tanto altro ancora nel rigoglioso parco della Santissima Trinità ai colli di San Pietro affacciato sul mare della costiera Sorrentino a Malfitana. E ancora genuinità in mostra e celebrazioni sacre per sette intense e partecipate giornate. Obiettivo raccogliere i fondi per creare un'area sportiva e ludica per i ragazzi della zona. A il Gusto E hanno partecipato esperti produttori, rappresentanti dei media, chef da location di massima eccellenza.